ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo light bulb una sigla un po insolita perché avevo intenzione di festeggiare con voi halloween anche un po magari in anticipo perché perché ho pensato di regalare a tutti gli iscritti ai miei social quindi sia quelli che sono iscritti a questo canale di youtube sia quelli che sono iscritti al gruppo facebook alcuni progetti che ho scaricato appositamente per voi per appunto andare a effettuare qualche lavorazione nel questo periodo prima di halloween allora quelli che vedete scorrere adesso mentre io vi spiego come funziona tutto questo questa cosa che avevo pensato sono i progetti che io inserirò 15 saranno inseriti dentro al canale youtube nella tab community dove ci sarà un link che vi porterà sulla repository dove andrete a scaricare come facevamo qualche mese fa quando c'erano i progetti gratuiti che mettevo ogni domenica nel periodo estivo altri 15 diversi dei primi invece li possono scaricare gli iscritti al gruppo facebook andando appunto nella tab che loro nel tab file del gruppo facebook che possono scaricarsi i i loro 15 progetti come dicevo prima sono 15 15 li vedete o non li vedete tutti perché non tutti hanno la foto sono già tutti predisposti per essere direttamente scaricati su light burn quindi necessità di tracciare c'è tracciata sono già più di tracciati dovete solo inserire parametri giusti per la vostra macchina come riferimento messo le foto per quelli un pochino più complessi perché ci sono alcuni file sono molto semplici quindi non avevano nemmeno necessità di una fotografia allegata alcuni invece che sono multi livello oppure hanno delle lavorazioni leggermente particolari per cui ho inserito anche la fotografia sono tutti liberi da copyright quindi potete usarli tranquillamente li ho scaricati io da internet facendo una selezione quella che tradizionate a mio gusto spero che incontri anche vostri siano sono quelli che ho ritenuto un pochino più carini e ecco mi piaceva fare questa iniziativa appunto per diciamo ringraziare tutti gli amici che mi seguono sui canali e sul gruppi di facebook io vi saluto spero che vi vogliate divertire a fare queste lavorazioni magari mettendo qualcuna delle realizzazioni che avete fatto delle vostre di questi progetti che vi ho suggerito sul gruppo facebook e magari commentare qualcosa sul canale youtube di nuovo un invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti che almeno vi potete scaricare anche i 15 progetti a voi dedicati e un clic sulla campanellina per essere sempre aggiornati vi aspetto per i prossimi video e per le prossime prossime novità e non dimenticatevi anche la tastierina perché anche quella è un oggetto che a mio avviso è molto interessante specialmente quando dobbiamo andare anche a lavorare questi file che ho scaricato ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao